Per il mio mestiere io sentivo e sento quotidianamente persone che lavorano nell'ambito del settore dell'immigrazione e qualunque elemento mi venga fornito viene trasferito ovviamente a chi di competenza che ne valuterà la consistenza. Così operavo anche in passato, in maniera assolutamente trasparente, senza ovviamente promettere niente a nessuno, men che meno, posti di lavoro, nell'unico e solo interesse della tutela della sicurezza nazionale. Ora io sono convinto da otto mesi di operare per difendere la sicurezza di chi parte e muore e viene usato da dei trafficanti di esseri umani che grazie al loro traffico comprano armi e droga. Ho fatto e rifarò, ribadisco finché campo, che io complice dei trafficanti di esseri umani e dei trafficanti di armi e droga non lo sarò mai da ministro e da cittadino italiano.